Faccio riferimento a chi è stato per me un mito, Dossetti, quando lui fa l'appello alla convocazione di menti e di cuori giovani, anziché un inutile volgersi a soluzioni già pronte. Sono parole profetiche, cosa diceva anche Don Lorenzo Milani, che ogni parola che non conosci è una pedata in più che avrai nella vita, ma in senso negativo. Credo che i dubbi siano più sani delle certezze. In uno oggi segnato dalla rassegnazione, dalle deleghi, dalle sicurezza, da un quadro politico che a me fa venire mal di pancia, perché questa è una società che si è barricata e vi siete chiesti cosa si stanno a fare i CIE, che è una vergogna, perché quelle persone che sono chiusi in quelle gabbie non hanno commesso nessun reato. Io non ho la fumoletta in tasca, ma senti che è ingiusto tutto quello. Come fare la profezia? E prendere coscienza che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Il cambiamento ha bisogno che partiamo da noi stessi, dagli stili di vita più sobri, essenziali. C'è bisogno di azioni credibili, riconoscibili, che alimentino la speranza. E questa è la profezia, come il mercato ecosolidale che avrebbe detto anni fa la sua estensione. Noi dobbiamo interferire, dove viene calpestata la libertà e la vita delle persone, dove si crea violenza, ingiustizia, soprafazione. La strada certamente è insalita e ha bisogno di continuità nel nostro camminare, ha bisogno di quel noi della condivisione e ha bisogno di quella corresponsabilità che ci ricorda la nostra democrazia e la nostra Costituzione, ma che la trovate, perché a questi riferimenti, proprio in quella parola, a volte graffiante, scomoda, di Dio.